Ci vorranno due mesi per elaborare il piano di evacuazione e di verifica del rischio sismico. Previsti 52,2 milioni di risorse, non subito disponibili, una struttura di supporto specificamente dedicata e centralizzata presso il Dipartimento della Protezione Civile e un coordinamento strettissimo con Prefettura, Regione Campania, città metropolitane e comuni interessati che potranno avvalersi anche della professionalità e delle tecnologie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia, Basilicata e degli ordini professionali per le figure ad elevato skill operativo. Queste sono le linee del decreto Campi-Flegrei, approvato in Consiglio dei Ministri. Oltre ai dubbi per i fondi stanziati, si discute sui tempi di realizzazione. Se i piani di monitoraggio della vulnerabilità sismica e pianificazione speditiva sono stati quantificati in 60 giorni, entro un mese va attivata la struttura di supporto al Dipartimento Protezione Civile, 10 unità di personale e dotazione iniziale di un milione di euro. La Regione Campania dovrà invece, entro 45 giorni, elaborare un piano di comunicazione alla popolazione anche con il coinvolgimento della comunità scolastica e delle locali sezioni di volontariato, il sostegno finanziario del governo e di un altro milione di euro. Infine la redazione del piano dei fabbisogni, infrastrutture, trasporti, vie di fuga, allestimento di aree di smistamento e permanenza temporanea, compito questo assegnato alla città metropolitana che avrà un mese di tempo per elaborare il tutto e 200.000 euro di contributo dal governo. Sempre alla città metropolitana, entro un mese spetterà l'organizzazione e il coordinamento dei servizi di protezione civile assieme ai comuni. Qui il governo assegna 50.000 euro alla Regione e 4 milioni direttamente ai comuni.